E' molto simile a Isola, ma non mi viene tutta questa roba qua città uguale, stanno uguali. No. Mi sono da capolistra, ma adesso vengo qua a Isola. E' già rubata. Ma sai cosa? Io ero là a Marco e mi andava in erbe. E qua adesso vengo a portar la divana, e ho l'altra stagia. Questo è già Croacia. Questa è la venistola di Croacia. Sì? Grazie a tutti. Grazie a tutti.